Una nuova occasione letteraria per poter far incontrare ancora una volta cittadini, cultura e poter portare avanti le nuove iniziative editoriali che nascono da autori catanesi. Giovanni Iozzia ci dà questo regalo, ci dà una storia, un libro dedicato alla città di Catania con l'editore Cartago e in partnership con l'amministrazione comunale di Santa Cateri-Battiati e la libreria del paese, il Sofà delle Muse, riesce a dar vita a un momento di incontro dove tra i relatori, uno di questi io e me, e poi il pubblico presente che è intervenuto in maniera copiosa è riuscito a creare un momento dove c'è stato un interscambio tra storia, cultura e letteratura.